Ben ritrovato. Oggi parliamo di un altro organo che appartiene all'apparato genitale femminile che prende il nome di vagina. Allora, la vagina è un condotto di natura muscolo-membranosa in pari e mediano. Complessivamente possiamo dire che origina a livello dell'utero, nella sua parte inferiore, attraversa tutto il pavimento pelvico e si apre a livello del vestibolo della vagina. Possiamo dire che presenta numerose funzioni legate a diversi aspetti della vita riproduttiva femminile. In particolare riceve lo sperma che attraversa il canale stesso, risale fino a giungere a livello uterino e quindi poi nelle tube dove incontra l'ovulo per la fecondazione. In più dà passaggio ad esempio al flusso mestruale, al secreto ghiandolare tipico del ciclo ovarico e dà passaggio soprattutto grazie a movimenti ossei correlati, che prende il nome di nutazione, al feto durante il parto e in particolare contribuisce alla fase esplosiva. A livello morfologico possiamo dire che risulta schiacciata in senso antero-posteriore, tanto che il lume si presenta di fatto come virtuale. Superiormente il lume si allarga nel fornice vaginale, mentre inferiormente il lume assume una forma ellittica. L'orifizio risulta quindi parzialmente obliterato dalla presenza di un setto muscolo cutaneo che viene chiamato imene, la cui conformazione è diversa secondo che la femmina sia vergine, nullipara o pluripara. A livello anatomo-microscopico possiamo dire che si distinguono tre porzioni fondamentali. La prima è l'estremità superiore, chiamata fondo, coincidente con il fornice vaginale. La seconda è la parte centrale che prende il nome di corpo e la terza è l'estremità inferiore coincidente con l'orifizio vaginale. Risulta lunga circa 7-8 cm ma la sua lunghezza in particolare può essere molto diversa a seconda dell'individuo. Comunque si presenta sempre più lunga a livello della parete posteriore, infatti è lunga circa 8,5 cm ed è più breve a livello della parete anteriore, circa 7 cm. Questa differenza è dovuta alla disposizione del fornice, cioè la struttura circolare che viene apporsi tra le componenti uterine e vaginale, tra loro compenetrate. Infatti il fornice anteriore è profondo da 1 a 2,5 cm, il fornice posteriore è profondo al massimo 0,5 cm, quindi mezzo centimetro. Lateralmente il fornice va approfondendosi in senso anteroposteriore. In linea generale possiamo dire che nella vecchiaia la lunghezza tende a diminuire, mentre durante la gravidanza può aumentare fino a 15 cm. Per quanto concerne il diametro, questo risulta altrettanto variabile, a seconda dello stato fisiologico. Normalmente in stato di vacuità si presenta di circa 2,5-3 cm e può raggiungere durante il parto anche i 10 cm. La parete anteriore si rapporta in particolare con la vescica urinaria è il trigono in particolare, è l'uretra, questo non in modo diretto ma tramite il setto vescico-vaginale che si interpone tra la vagina e vescica e si tratta di tessuto connettivo lasso contenente numerose vene. E poi anche tramite il setto uretro-vaginale che si colloca inferiormente al precedente e presenta uno spessore di circa 1 cm. Questa fascia connettivale va a espessirsi in senso cranio-caudale. La parete posteriore invece si pone in contatto con il peritoneo dell'area uterina, in particolare tramite il cavo retto-uterino e poi anche l'intestino retto tramite una fascia connettivale che prende il nome di fascia retto-vaginale. Nel perineo le strutture di retto e vagina divergono andando a formare il cosiddetto trigono retto-vaginale con base inferiore e apice superiore. Lateralmente nella parte che si colloca superiormente al muscolo elevatore dell'ano c'è il cosiddetto legamento largo. Più lateralmente a questa struttura si colloca uno spazio connettivale che contiene i vasi uterini e l'uretere. Nel suo decorso contrae il rapporto poi colleghiando le vestibolari maggiori. La vascularizzazione arteriosa superiormente fa capo all'arteria uterina, per la restante parte fa capo all'arteria vaginale che è un ramo dell'arteria pudenda interna e poi c'è anche un contributo dell'arteria rettale media. La vascularizzazione venosa costituisce invece il plesso vaginale che drena in particolare al plesso venoso utero-vaginale, al plesso venoso vescico-vaginale che a sua volta comunica con il plesso emorroidario. Possiamo dire che il sistema fa capo alle vene illiache interne in generale. Per quanto riguarda invece il drenaggio linfatico questo fa capo all'infonodi ipogastrici per la porzione vaginale media e superiore, i linfonodi sacrali che si occupano del drenaggio della parete posteriore e i linfonodi inguinali superiori assieme ai linfonodi della vulva. A livello dell'innervazione quella vegetativa è affidata al plesso utero-vaginale appartenente al plesso perdico e anche ai rami del parasimpatico sacrale. La porzione inferiore tramite il nervo pudendo invece è fornita di anche una sensibilità somatica. A livello della conformazione interna riconosciamo la presenza delle rughe vaginali che sono più pronunciate nella parte inferiore. Queste rughe sono più sviluppate nella neonata e tendono poi con l'età a diventare via via più piatte. Possiamo dire che da queste si dipartono due colonne delle rughe, si chiamano proprio colonne delle rughe che si collocano medialmente sulle due pareti anteriore e posteriore. Anteriormente a livello del trigono vescicale questi rilievi si interrompono sul trigono. La struttura microscopica risulta poi costituita ovviamente essendo un organo cavo di tre tonache che procedendo dall'interno all'esterno sono la tonaca mucosa che continua l'ectocervice superiormente, che si trova superiormente e in basso continua poi con la cute del vestibolo vaginale. E risulta composta di un epitelio pavimentoso composto costituito da quattro strati, lo strato basale, lo strato parabasale, lo strato intermedio e superficiale. Si presenta strutturalmente molto elastico, di colorito roseo grigiastro. Poi abbiamo la lamina propria che risulta ricca in neutrofili, la cui azione è di natura difensiva rispetto agli agenti esogeni. E poi un'azione ovviamente fagocitare rispetto agli spermatozoi in risalita. Poi c'è una tonaca muscolare che si presenta abbastanza importante con dei fasci di miocellule organizzate a costituire delle fibre ad andamento circolare e longitudinale. Infine c'è la tonaca ventizia che è costituita da tessuto connettivo denso ricco di una componente elastica. Passiamo ora ai genitali esterni. Possiamo dire che nel complesso gli organi esterni dell'apparato genitale femminile sono organizzati a costituire la vulva, che prende anche il nome di pudendo femminile, e si colloca inferiormente al perineo e in posizione intermedia rispetto alla radice delle cosce. Complessivamente possiamo dire che i genitali esterni sono organizzati in questo modo. C'è il monte del pube o monte di venere, che è quella sporgenza cutanea situata al davanti della sinfisi pubblica e che in alto prosegue senza una netta demarcazione con la regione ipogastrica, lateralmente da entrambi i lati e delimitata dall'inguine, inferiormente continua nelle grandi labbra. Ci sono poi appunto le grandi labbra che sono due grosse pieghe cutanee che sono poste sotto il monte di venere e si sviluppano in senso anteroposteriore e risultano divise tra di loro dalla presenza della rima vulvare. Le piccole labbra sono anche chiamate ninfe e sono due pieghe cutanee disposte in senso uguale, anteroposteriore uguale a quello delle grandi labbra e complessivamente risultano comprese all'interno delle grandi labbra, quindi racchiudono, stanno internamente alle grandi labbra e racchiudono l'orifizio vaginale. Poi ci sono gli organi erettili, essenzialmente sono costituiti da tessuto cavernoso che è analogo a quello che troviamo nel pene e si tratta di due strutture distinte, il clitoride e i bulbi del vestibolo. Il clitoride è una struttura costituita da due corpi cavernosi, è una struttura impari e mediana e si colloca inferiormente alla commessura vulvare anteriore. Presenta delle dimensioni relativamente ridotte di 2-3 cm in lunghezza e 6-7 mm in diametro. I bulbi del vestibolo invece si collocano in una loggia comune rispetto ai tre organi erettili e si trovano latero inferiormente al clitoride. Poi c'è il vestibolo della vagina, che è chiamato anche cavità vulvare, che è quello spazio che si trova tra le piccole labbra. Bene, abbiamo terminato il discorso sull'apparato genitale femminile e la prossima volta potremo iniziare a parlare dell'apparato genitale maschile. Ti aspetto allora alla prossima!